Ciao a tutti ragazzi della TFG, andiamo a guardare Rina che ha già il lavoro che fa la sua testa, perché quella è la tua testa Rina. Ora che devo concentrarmi, quanto è alta? 8x8, come la testa del creeper, poi facciamo gli occhi e però, volevo sapere, secondo voi, noi facciamo la testa in pietrisco, gli occhi in lana bianca e nera, vedete che è già pronta, poi però la corona dovremmo farla in oro, dice, se vi piace, la facciamo una corona, sì, non piena, solo l'esterno e una bella coroncina alta 3, poi 1, 3, 1, 3, così, insomma, io ho delle idee ragazzi, la cate è stare che sono un Minecraft builder ormai. Stai zitto! Sono un builder professionista, tanto vedi che abbiamo messo le scale, guarda che bravio. Sì, ovviamente in privata abbiamo fatto i contorni con l'alana bianca, perché tanto comunque era una roba abbastanza semplice da fare e comunque adesso, Rina, aspetta, tu stai facendo la testa, però io vorrei un attimo venire sopra lì con te, fammi venire sopra con te un attimo. Vieni sopra, ma potrei fare il giro dall'altro lato? Ah, praticamente adesso io ti aiuto un attimo a fare sta cavolo di testa, e quanto alto siamo qui adesso? È alta come quella la destra. Ah, ok, perfetto, quindi 1, 2, così, così, era meglio se cavolacci così, no? Boh, non so, ancora 1? No, forse ho sbagliato, eh? Se tu fai come sto facendo io, magari riusciamo a farvelo giusti. Ah, sì, giusto, tu dici di fare come fai tu? Sì. Giusto, allora facciamo come fare Innegan. No, perché è la cosa più sensata. Allora, dopo, dopo, qui dobbiamo fare gli occhi, la bocca, il naso e bla bla bla, poi te la unisco io, sta buono, che sono un Minecraft Builder barra parkour super super pro. Innegan, mi metti la scala, grazie, grazie, ok, grazie, gentilissimo. Adesso dobbiamo, però, dobbiamo costruire la faccia, la face, vedi che abbiamo lasciato il buco qui. Allora, metti le scale, va così, intanto andiamo lì, metti le scale, ok, grazie. Wahà! Oddio, metti ancora? Povero. Eh, cavolo, qui? Oh, grazie, grazie, ecco, perfetto. Adesso qui noi dobbiamo costruire la faccia, la face. Allora, tu adesso devi fare la bocca partendo dal, eh, un blocco in basso, quindi all'altezza del, esattamente del tuo cozzo. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahah, al tezzo del tuo cozzo, ok, perfetto, larga 4, ok, adesso metti l'ana nera lì, metti l'ana nera. Se vuoi te la metto io, aspetta, ok, bravo, ce l'hai. Allora, perfetto, adesso è alta, salta un blocco e fa l'alta 2. Se non è alta un blocco e fa l'altezza del tuo cozzo, ecco, così, ecco, metti un blocco di lana nera. Perché sono... Ok, bravissimo, bravissimo, bravo, bravo, aspetta un attimo che devo mettermi qua per vedere bene. Ok, perfetto, adesso, da dove hai messo la lana nera, ok, metti due blocchi di lana bianca che sarebbero gli occhi. Mi dai la lana bianca per... Aspetta, aspetta, li metto io, quindi, aspetta, uno qui e uno qui, perfetto, uno qui e uno qui, vediamo un po' se è giusto. Sì, sì, è giusto, giusto. Ok, è giusto, è giusto. Adesso copri tutto con la pietra, no, aspetta, non tutto. Fai una fila di pietra, esatto, una sola, perfetta, perfetta. Poi metti, aspetta, aspetta che ti copro io con la lana nera, un blocco qui. Ma ce l'ho, perché... Metti una dove l'ho messo io dalla parte opposta. Tutto con la pietra, vai di... Miaoo, 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 perfetto. Adesso dobbiamo fare tutto il resto con la lana nera e i capelli. Ah, quindi, buono... Quindi la lana nera qui adesso? Eh, buono, no, 40 blocchi dovrebbero bastare, perché sono solo i capelli. Così, quindi? Eh, sì, ma tutto. Sì, ma ho capito, ma è per farmi capire fin dove deve essere. Eh, no, aspetta, ho sbagliato, ho sbagliato. Ho sbagliato, perché in realtà qui va la lana nera. Ok, così, e qua la pietra, perfetto. E dall'altra parte è la stessa cosa. Eh, ci conviene prima fare la spada. Sì. Poi al massimo la completiamo con la lana nera. Vieni qua intanto. Allora la spada dobbiamo partire da qua. Allora ragazzi, intanto, io sto costruendo tipo la spada, però è un casino, perché dobbiamo fare nove blocchi in alto. Quindi, aspetta. Aspetta che torno qui un attimo. Allora, eh... Uno, due, tre. Quindi, uno, due, da qui dobbiamo farne nove. Quindi, aspetta un attimo che metto il pietrisco e che devo salirci sopra. Quindi, aspetta, uno, due, tre, quattro. Cinque. Aspetta, eh. No, eh... Sì, è giusto. Cinque meno due, tre. Quindi dobbiamo fare un'altra nove. Tre. Allora, eh, quattro. Perfetto, farne nove, è un po' un bordello. Rompo dopo ragazzi, perché, rompo subito, perché dopo non so se è giusto. Un conto. Ok. Cinque. Rinega, conto a quanti blocchi ho? Devono essere undici in totale. Non mi ricordo più, ho perso il conto. Aspetta un attimo sulla testa, così ho una visione più alta. Oh, grazie. Dimmi quanti ne ho fatti, perché devo fare... Debbiamo fare una spada lunga undici, però mi sono perso il conto. Sì, ma da dove? dalla base, dalla base 11 ancora uno quindi ok allora qua tec tec 11 e adesso rompo quel blocco sotto ok perfetto dalla base guarda che vengo anch'io su lì a vedere come è venuta la spada adesso non è una spada è una roba orribile fai vedere adesso per farla diventare più grossa dovremmo usare la nana nera sotto e sopra è un po' un casino perché devo mettere una bianca guardate una qui e una qui per tutta la spada quindi è un po' un casino adesso perché devo farmi una base laterale quindi adesso per fare una base laterale vado a prendere il petrisco spero che tanto ne abbiamo infinita aspetta che non mi devo fare la base dopo la rompo quindi qui e qui giusto? dimmi se è giusto 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 ok giusto qua e qua no no qua ho sbagliato quindi rompiamo la lascia per quando la rompiamo uuuuua ciaaa perfetto e qua da questa parte perfetto adesso pietrisco si pietra dopo devo rompere tutto mio dio ragazzi voglio che lasciate 8000 mila mi piace perché sto esplodendo la testa tipo ok qua e qua qua e qua ora oh madonna adesso posso fare da questa distanza vediamo no si no no vado da questa parte vado da questa parte guarda ecco così ok giusto adesso ricopri tutto di lana nera scusami tutto con la lana nera adesso è così giusto così adesso tutto con la lana nera devo fare si bravo ok quindi adesso posso spaccare rompere qua faccio così e qua adesso mi rompo qui rompo qui e vado giù pian piano di un blocco alla volta ok perfetto ok così da questa parte il tec ok aspetta un attimo no si oh che culo uuuu e anche oh rinnega devi dirmi però perché non mi sto perdendo tipo si continui qua più coprile aspetta che devo rompere il pietrisco la pietra qui un attimo aspetta eh rompi qua rompi qua rompi qua ok adesso devo mettere anche un blocco qui sopra e qui sopra no aspetta qua qua c'è un casino ah adesso dobbiamo fare un po' di una roba diversa togli un po' di roba adesso questa? ok adesso togliela così dopo liberiamo un po' e vediamo meglio come viene la spada ma che figo no stupenderrimo stupenderrimo ragazzi adesso dobbiamo fare l'impugnatura si voglio dire si sono lì dell'impugnatura ok sono lì dell'impugnatura adesso mettine eh due neri dove? sul grigio e sul bianco qui si qui uno sotto qui esatto qui e qui esatto aspetta ok poi adesso aspetta mettine vedi il grigio in basso quella in fondo? sul sicuro da uno ok quella in fondo là esatto ricoprilo questo così e si fai un cerchietto indorno eh devo andare la però? che palle allora si perfetto allora rompo qui rompo qui e qui non lo rompo perché sennò muoio eh però devo fare così e rompo guarda lì guarda che bravo devo mettere pietra ancora lana nera? te lo vai sopra sopra lì? si sali sopra quel blocco lì ok mettine un altro dove? sotto i tuoi piedi ah così? ancora uno ok adesso ricoppergli di nero questo qui? no lì? si qua e qua? no il grigio? il grigio? il grigio? questo? si maripop quello proprio ah devo proprio fare il cerchio e ancora uno nel nero ancora uno nel nero dove? quello qui no questo? si mettere qua sopra? si ok perfetto ho fatto eeeh hopla ho fatto un pezzo dove? ecco la sopra nella punta no la? allora lo riesco a mettere t'ho fatto ok parlo un po' adesso ma no questo non mi serviva come non mi serviva? ma ti do adesso? eh ma ti sei dedicato un pezzo eh tu ah la devo metterlo? eh si ah? ma nooo ragazzi voglio vedere la spada siiii tanti mi piace ragazzi avevo fatto la spada che figo che bordello era sta spada da fare mio dio sto sudando tipo siiii in pietra madre non la posso neanche prendere guarda che bella vado giù vedo la spada da giù ah e poi ragazzi nel video nei commenti ditemi se volete la testa d'oro perchè adesso noi dovremmo farla con la lana nera ai capelli però io ho pensato io penso di fare voglio farla proprio eh non solo di lana nera ma proprio la corona d'oro e la facciamo nel prossimo video ragazzi quindi mettiamo un po' adesso tanti a me mi piace perchè adesso c'è un problema ci sono due creeper sotto eh dobbiamo andare via da qui dove è la scala di qua perchè hai messo di qua la scala per confondere i creeper ah per confondere i creeper VAIA 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 Fai scappare i creeper va che bella va che bella la nostra statua stupenderrima ragazzi stupenderrima ha un senso che bella wucha wucha perfetto è troppo vicino ci sono un po' di scale da togliere perchè sembra che ca' i brufoli la nostra faccio la barba con le spalle con le spalle che bella ragazzi si si muori lasciate tanti bei mi piace per questa statua stupenderima il prossimo video farei tanto ho visto che è esploso l'ho ucciso ciao a tutti ragazzi al prossimo video